fine primo tempo tra napoli nord contro new generation 2 a 1 a favore della new g andiamo dall'autore del primo gol fiorentino fiorentino 2 a 1 per voi state giocando una buona partita state soffrendo secondo me un po' tanto e bisogna migliorare solamente qualcosa per portare a casa questi tre punti dobbiamo difenderci un po' meglio dobbiamo essere un po' più aggressivi secondo me perché li aspettiamo troppo e li facciamo uscire assai quindi se siamo un po' più aggressivi sempre che le gambe ci reggano magari facciamo portarci a casa questa partita va bene in bocca al lupo fiorentino andiamo adesso dai ragazzi in completino azzurro voglio andare dal numero 4 postiglione postiglione partite sempre con questo primo tempo un gol di vantaggio peccato avevate pareggiato però nel finale è arrivato un gol di gentile ha spezzato le gambe si tutto sommato noi stiamo giocando male solo una piccola distrazione allora sono passati in vantaggio cercheremo il secondo tempo di ribaltare questo risultato cosa c'è da migliorare in ambito tecnico tattico la squadra più attenzione più concretezza sotto porta va bene in bocca al lupo postiglione a dopo ragazzi all'intervista finale